San Mignato, alto sulla collina, prossimo alla Via Francigena, nel XIV secolo visse, grazie a maestri pisani, senesi, lucchesi, ma soprattutto fiorentini, una vivacità artistica di cui si hanno testimonianze nel Museo Diocesano. Ritroviamo Neri di Bici con la Madonna della Cinta, Battista, Tommaso e Bartolomeo, in sacra conversazione, ma convenzionale. Maria in mandorla e raggiante, con fascia reggimento, volto allungato, Battista con il mantello rosato sopra il pelo e gli altri insignificanti, tutti a bocca serrata, santo silenzio, però sotto il trono, nonché i piedi dei martiri, si aprono altopiani, valli. Che Bici abbia volato o abbia l'occhio aquilino? Stupenda è l'incoronazione di Maria, di un maestro ignoto. Dall'alto, finalmente, un Dio amorevole, contornato di serafini biondi, come gli arcangeli dalle ali policrome. Bello, quello di sinistra, veste alla Botticelli, quello di destra come un allievo di una scuola nordica. Maria, in malinconia, regge sul palmo un putto inesorabilmente biondo, benedicente. I santi Bartolomeo, Cosimo, Lucia, Damiano, Sebastiano ed il Pettirosso, simbolo della futura passione. Il paesaggio, poco toscano, e la truce immagine di Lucia con il collo trafitto, il balbuziente naturalismo dei volti di Cosimo e Damiano, ci fa sospettare un maestro d'oltralpe. Una prima assoluta, la morte di San Giuseppe, di Matteo Bonecchi. Siamo nel XVII secolo, quello degli angeli volanti senza ali della scuola bolognese, del tintoretto a Venezia. Di Giuseppe poco sappiamo dai Vangeli, e credevamo fosse ancora in giro, tra Gerusalemme e Betlemme, ad aggiustare danni altrui. Invece è morto, e per quanto assistito dal figlio, che anziché abbracciarlo, lo benedice con distacco sacerdotale, e dalla moglie, sempre giovane, ci ha dolore. Di Pier Francesco Foschi è la pietà, ove ad un corpo di Cristo verosimile si contrappone un angelo che al defunto mostra i segni della passione, all'aria inquisitoria, per domandare, sono tuoi questi chiodi? L'angelo, che regge Cristo alle spalle, deve aver fatto il domestico da Caravaggio. Poche storie, c'è un lavoro da fare. Scendiamo a Volterra, terra etrusca, e finalmente incontriamo Rosso Fiorentino. Delle sue opere parleremo in un film a lui dedicato. Se i colori vi ricordano, quelli del Pontormo siete sulla retta via. Bella la figura di tre quarti di Battista, in posa statuaria, quasi fosse un oratore romano, ma avvolto nel panneggio manierista. Bartolomeo sta ascoltando, ha lo sguardo perplesso, qualcosa non gli torna, ed un dubbio gli fa cadere la macella. Maria è in astrazione, come tutte le puertere, ha cose più serie da pensare delle dispute teologiche. Ha un bel bamboccio da crescere. Troverete reliquiari, croci processionarie, che ci inducono a proseguire per Siena, attraversare le sue contrade e, se aperte, entrare negli oratori, perché ognuno ha qualcosa da mostrare. I drappelloni conquistati e piccole opere d'arte. Non volendo parteggiare per alcuna contrada, ed avendo già raccontato degli affreschi del buon governo e delle sculture della fonte Gaia in piazza del campo, suggeriamo una visita al Museo dell'Opera del Duomo. È d'oro la Madonna in trono tra santi ed apostoli, e l'autore è duccio da buona insegna, una maestà che è regina del gotico senese. Bella la figura del vescovo ai suoi piedi. La natività di Pietro Lorenzetti, sotto una raffinata architettura gotica, mostra la puerpera affaticata. In una giornata di caldo, altro che inverno, una domestica arieggia con un ventaglio, il bimbo viene lavato nella tinozza, altre due sono pronte con l'olio ed il cambio dei panni, mentre Pietro ascolta quel che non riesce a capire. La deposizione del Sodoma di per sé merita un viaggio. Le scale sono legate, così la fascia che sostiene il corpo è che l'uomo a sinistra regge con gran sforzo ed incita il compagno a scendere lentamente, poiché, essendo le scale divergenti, al prossimo gradino dovrà lasciare la mano. Il peso si sposterebbe bruscamente e colui che regge Gesù dalle spalle potrebbe perdere l'equilibrio. Già è molto sbilanciato in avanti e scende con i piedi a rovescio. Non saranno gli apostoli a sostenere il corpo dovesse cadere. Troppo impegnati nella commozione è d'uno dei reggitori della scala. Alla nostra sinistra li guarda faticando a tacere. A terra le Marie cercano di far rinvenire la madre, mentre due soldati confabulano. Sotto il monte scorre un fiume che s'allarga a lago. Se le figure umane sono credibili e le loro emozioni evidenti, questo paesaggio è di pura fantasia. Superata Arezzo, il suo duomo, con la leggenda della vera croce, il sogno vigilato di Costantino, del maestro della prospettiva Piero della Francesca, arriviamo a Sansepolcro. Il mirabile politico della misericordia di Piero domina nel museo civico. La crocifissione ha la drammaticità di quella del masaccio a Capodimonte, ma ha colori luttuosi. All'oro di fondo Piero preferisce un bianco opaco e al blu di Maria il nero, grigio e il calvario. E se le mani aperte di Maddalena nel masaccio esprimono lo struggimento, quelle dipinte da Piero, scarne, nodose, di Maria, che in ginocchio supera comunque in altezza San Giacomo, bruciano di dolore. La Madonna la rivedremo tra un po', qui è la predella conscene della vita di Cristo che ci attirano. L'apparizione a Maddalena, la scoperta del sepolcro vuoto, la deposizione nello stesso, la fustigazione, la preghiera nell'orto degli ulivi, ed il talento dell'artista si manifesta pienamente, anche nel piccolo, lasciandoci a bocca aperta. La Ressurrezione è superba. Pietro, nel 1460 circa, porta a sintesi il Rinascimento. Osserviamo Cristo. Non c'è segno di vittoria sulla morte, né sorriso per il ritorno alla vita. Gli occhi profondi vedono nell'atonia l'oltre. Per uscire dal sepolcro non ha bisogno di appoggio, né sulla gamba, né sull'asta dello stendardo. Silenziosamente, con una forza, a noi ignota, uscirà senza destare i gendarmi. Sarà eccentrico, ossia fuori dal normale cerchio artistico, ma pontormo, con San Quintino, martire romano, trafitto dal collo ai piedi e poi messo all'agonia, ci sconcerta per il senso di inquietudine che provoca. Una rappresentazione alla lettera, le dita delle mani chiodate sotto le unghie, i segni su braccia e corpo delle trafitture e la infamia dell'esposizione al pubblico di un dolore orrendo che spaventa l'uomo che passa a destra, correndo. A sinistra, un vecchio indifferente, regge con il bastone i passi che gli mancano per concludere il suo cammino. Tra i due, un giovane gioca sulla riva di un fiume. Forse è la speranza in un futuro migliore. Per la Madonna del parto di Piero della Francesca han costruito un museo. Solo un umanesimo illuminato da un'antica devozione per la madre, Gea, la dea generatrice, avrebbe potuto consentire questa rappresentazione. giovane, bella. Qualcosa la disturba, un movimento nelle viscere, una leggera nausea. Era nella sua stanza, ma le devote l'attendono. Sono donne come lei che confidano in una gravidanza felice, in un figlio sano e forte. Angeli simmetrici la rivelano. Ha dovuto allargare la veste, slacciarla anche davanti. E che forma prende lo spacco? Una casualità o un memento del mistero dell'incarnazione e della nascita? Gli angeli aprono la tenda, lei la veste. La mano destra indica il ventre, il luogo della creazione, il tabernacolo, la piccola casa. Nell'immobilità delle figure vi sono tre epifanie, rivelate una dagli angeli, l'altra dalla veste, la terza dalla mano di lei. Facciamo tappa qui, prima di cortare. gebruite la patria qui, legge il tuo l'uncazione. Il r perspective